Va bene, allora, benvenuti in questa lezione online, come preannunciato la useremo per svolgere degli esercizi di teoria, in particolare sulla parte della numerazione, estraendoli da quel set di esercizi che abbiamo pubblicato nelle settimane scorse. Io cerco di trovare un certo numero di esercizi, diciamo così, nell'ora e mezza che abbiamo a disposizione e partirei dal fondo, perché gli ultimi sono quelli che abbiamo aggiunto per ultimo nell'ultima settimana, quindi magari sono quelli, diciamo così, che non avete ancora iniziato a fare e vi chiederei in qualunque momento di intervenire durante gli esercizi, sia per far domande, sia, diciamo così, per dire la vostra. Potete intervenire sia nella chat di Zoom, sia anche aprendo il microfono parlando e, diciamo così, ci sentiamo e ci rispondiamo, ok? Ok, allora, io partirei appunto da questo file, dall'ultimo esercizio di questo file, il link del file, per chi non ce l'avesse, l'ho messo nella chat di Zoom, quindi potete cliccarci sopra direttamente per aprire questa pagina con il testo e l'esercizio chiaramente lo risolverò a mano con la penna e cercherò di essere più ordinato possibile. Ok, allora, esercizio 23 sulla parte dei numeri, convertire i seguenti numeri dalla codifica decimale in complemento 2 su 8 bit, quindi da, a volte queste frasi sono scritte in un modo un pochino, con un italiano un pochino approssimativo, quindi i numeri sono da convertire dal decimale al complemento 2 su 8 bit e i numeri, diciamo così, in oggetto sono questi due. Dopo eseguire, quindi eseguire la loro somma verificando la presenza di overflow e convertire il risultato in decimale. Ok, quindi dobbiamo fare tre cose, una conversione, una somma e poi una conversione, una seconda conversione dal base 2 alla base 10. Allora, prendiamo, allora, n1, così, allora, il testo ci dice che n1 in decimale vale 94, ok? Allora, come lo convertiamo in binario su 8 bit, quindi in complemento a 2 su 8 bit. Allora, il primo, il modo più semplice di convertire un numero decimale in binario, questo è un numero positivo, quindi non ci sono problemi di conversione, possiamo adottare il metodo delle divisioni successive e quindi abbiamo un 94 che, dividendolo successivamente per 2, 94 diviso 2 fa 45 più 2, 47, con resto di 0, 47 diviso 2 fa 20, 7 diviso 2 fa 3,5, quindi sono 23, con resto di 1, 23 diviso 2 fa 10, 3 diviso 2 fa 1, quindi 1 diviso 2 fa 1, 2 diviso 2 fa 1, con resto di 0, 1 diviso 2 fa 0, con resto di 1. Quindi, prendendo i valori dall'ultimo verso il primo, abbiamo che 94 si scrive in binario, 1, 0, poi 4 volte 1, e poi 0. Allora, questa è la conversione semplice, dopodiché noi dobbiamo esprimerla su 8 bit, vediamo quanti bit abbiamo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bit, e quindi per averlo su 8 bit aggiungo un bit ulteriore di segno pari a 0, ok? Deve essere un numero positivo, quindi devi iniziare con lo 0 giustamente per poterlo rappresentare in 8 bit in complemento 2. 94 è rappresentabile su 8 bit in complemento 2 perché il numero massimo rappresentabile sarebbe più 127 e 94 ci sta all'interno, ok? Dopodiché abbiamo N2, lo scrivo qua a destra, che il testo ci diceva essere meno 101, meno 1, 0, 1. Allora, anche qua è un numero maggiore di meno 128, è un numero negativo, è maggiore di meno 128 e quindi è rappresentabile su 8 bit in complemento 2. ciò che ci dice, diciamo così, il metodo di calcolo normale è quello di dire di prima convertire il numero positivo corrispondente e poi invertire i bit e sommare 1 per ottenere il numero negativo corrispondente, no? poiché è un numero di complemento 2 negativo. Quindi possiamo fare la stessa operazione delle divisioni successive, quindi 101 diviso 2 fa 50 col resto di 1, 50 diviso 2 fa 25 col resto di 0, perché 50 è pari, 25 diviso 2 fa 12 col resto di 1, 12 diviso 2 fa 6 col resto di 0, 6 diviso 2 fa 3 col resto di 0, 3 diviso 2 fa 1 col resto di 1 e 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1. A questo punto rileggiamo questo numero qua e scriviamo 1, 1, 0, 1, 1, 0, poi 0, 1, 0 e 1. Questo numero qua è espresso su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bit e quindi ci aggiungo 1, 0 davanti per arrivare a 8 bit. Questo valore qui, questo numero, vale, attenzione che questa è la conversione di più 101, non di meno 101. E allora per convertirlo da un valore positivo a un valore negativo, la regola del complemento 2 ci dice inverti tutti i bit, quindi 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e poi sommi 1, più 1, sommi 1 e quindi abbiamo qualcosa che è 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Non so perché vengono fuori questi puntini tutte le volte che poggio la matita, cercherò di evitarlo. E quindi il numero, il secondo numero che possiamo allineare qua visto che poi dobbiamo fare una somma sarà 1, 0, 0, 1, 1 e poi 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 e qui ho cercato di allineare i bit. Quindi questo è il nostro N1, questo è il nostro N2. In complemento 2 su 8 bit. Ecco, la cosa importante, che non dobbiamo sbagliare, è io ho aggiunto questo 0 davanti al numero prima di fare l'operazione di inversione, cioè prima di arrivare sugli 8 bit e poi dopodiché inverto il numero, perché altrimenti mi troverai un numero di segno sbagliato e con un bit in meno, e poi dopo non saprei che calcoli fare. Ok, allora, la seconda cosa che ci chiedeva, quindi questo abbiamo risolto il primo passaggio, quindi all'interno del quiz, diciamo così, dell'esame, bastava a questo punto scrivere questi due risultati, non è necessario ovviamente riportare i passaggi, i passaggi ve li potete fare su un foglio di frutta. Dopodiché, il secondo punto era eseguire la somma. Eseguire la somma, allora 0 più 1 fa 1, 1 più 1 fa 0 col riporto di 1, 1 più 1 più 0 fa di nuovo 0 col riporto di 1, 1 più 1 più 1 fa 3, cioè 1 col riporto di 1, poi qui abbiamo di nuovo 1 più 1 più 1 che fa 3, quindi 1 col riporto di 1, 1, 0, 0 fa 1, poi qui non abbiamo più nessun riporto, 1 più 0 fa 1, 0 più 1 fa 1. Quindi questo è il nostro risultato della somma di n1 più n2. Il testo ci chiede se è verificato overflow, la risposta è non c'è stato nessun overflow, perché non è possibile che ci sia overflow quando faccio la somma di due numeri di segni diversi. Quindi, un numero positivo più un numero negativo può dare come risultato un numero positivo, può dare un risultato come numero negativo, ma sicuramente sono numeri che sono all'interno dell'intervallo della presentazione e quindi non si verifica overflow, perché gli addendi hanno segni di scorti. Ok, quindi questo è il secondo punto, il terzo punto che ci chiedeva l'esercizio è di rappresentare il risultato in esadecimale, in base 16. Questo è semplicissimo perché basta raggruppare i bit a 4 a 4. I primi 4 bit sono la prima cifra decimale, i secondi 4 bit sono la seconda cifra esadecimale. La prima cifra esadecimale sono 1, 1, 1, 1, quindi è un 15, che in base 16 si scrive F, la seconda è 1, 0, 0, 1 vale 9 e quindi si scrive 9. Questa è la rappresentazione in esadecimale del nostro numero, base 16. E questo conclude l'esercizio. Quindi ciò che andava scritto essenzialmente era il valore di n1, il valore di n2, il valore del risultato, l'informazione che non c'era overflow, spiegando magari anche perché, e il valore in base 16. Vedete che da base 2 a base 16 non si fa nessun calcolo perché basta semplicemente raggruppare i bit. Ok? Ok, allora se va bene, se non vedo domande, se non fatevi vivi, non fate i timidi, possiamo passare all'esercizio successivo. Esercizio successivo, 22, dice descrivere i concetti di overflow e underflow nello standard floating point ai 3 poli 7, 5, 4. Quindi questa è una domanda un pochino più, diciamo così, di stampo un pochino più teorico, dove possiamo dire che l'overflow è quando il numero supera il range di rappresentazione. di rappresentazione che ad esempio, se ci ricordiamo, è circa 10 alla 38 per la singola precisione, precisione, ma vabbè non è un'importante, non è un richiesto, mentre invece l'underflow si ha quando il risultato, un risultato che dovrebbe essere, fatemi dire tra parentesi, piccolo, ma diverso da 0 viene approssimato a 0 e quindi di fatto compriamo un errore di approssimazione madornale, perché è un errore praticamente di rappresentazione del 100%, quindi quando di solito arriva fuori l'underflow da una divisione oppure una sottrazione, sottraggo due numeri che sono molto molto simili, la loro differenza è minore del più piccolo numero rappresentabile, perché è più piccolo, perché è minore del più piccolo valore rappresentabile. rappresentabile che, di nuovo, nel floating point, a singola precisione, è circa 10 alla meno 38. torno indietro all'esercizio precedente, perché sono comparsi due domande e quindi è giusto dare seguito. Allora, la prima domanda mi chiede se abbiamo una tabella per convertire in esadecimale, la risposta è che non c'è bisogno di nessuna tabella per convertire in esadecimale, perché sono semplicemente i numeri dallo 0 al 15, quindi se vogliamo aggiungere una pagina, le cifre esadecimali sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e poi continua con A che vale 10, B che vale 11, C che vale 12, D che vale 13, E che vale 14 e F che vale 15. Quindi i numeri dal 10 al 15 sono rappresentati dalle prime 5 lettere d'alfabeto. Quindi una volta che avete i 4 bit in binario e li cercate di leggere in decimale, se questo numero è un numero compreso da 0 e 9 lo scrivete semplicemente in modo normale, se è compreso da 10 e 15 invece lo scrivete con la lettera d'alfabetica. rispondo all'ultima domanda che è appena arrivata, dice che pedice indico per rappresentare un numero esadecimale? Il numero esadecimale, quello di prima era F9, F9 lo posso scrivere a seconda con un H a volte si scrive, oppure F9 con 16 a pedice, oppure a volte si scrive X per dire esadecimale, non c'è una convenzione così definita. Poi l'altra domanda invece è relativa al complemento 2 e mi chiede Francesco come si è indicato il meno nel secondo numero. Allora nel secondo numero non è che ho indicato il meno, il numero aveva un meno, era un numero negativo e io per convertirlo cosa ho fatto? Ho prima convertito il numero positivo corrispondente come se fosse positivo, quindi questa operazione qua come vedete sono partito da 101 positivo e quindi è venuto fuori un numero, ovviamente aggiungendo poi lo 0 davanti per arrivare a 8 bit, un numero positivo. Poi l'operazione che ho fatto è stata quella di invertire il segno del numero che con la regola del complemento 2 si ottiene appunto facendo questa operazione di invertire i singoli bit e sommare 1. Questa operazione qua è un'operazione di cambio segno e mi dà questo risultato binario che rappresenta non più il più 101 ma questa volta il meno 101. Il 101 è scritto in decimale. Quindi il fatto che questo numero sia negativo viene perché ho preso un numero positivo e gli ho cambiato segno e lo vedo, se voglio essere sicuro, lo vedo, è evidente, dal fatto che il bit più significativo è un 1 e quindi questo mi dice che questo è comunque un numero negativo. Quindi il segno del numero lo vedo dal bit più significativo. Questo mi dice anche che il risultato dell'operazione sarà un risultato negativo. Giustamente faccio 94 più meno 101 e il risultato è negativo. Quindi due cose. Uno è un numero negativo come faccio a convertirlo devo fare questo doppio passaggio converto il positivo e poi inverto i bit e sommo 1. L'altro, semplicemente guardando il numero il primo bit mi dice immediatamente qual è il segno del numero positivo oppure negativo. Ok. Allora, a questo punto possiamo andare avanti. 21, convertire due numeri B, D e 6, 0 da esa decimale a binario quindi di nuovo qua siamo sulla base 16 da base 16 a base 2 poi, considerando tali numeri binari come se fossero codificati in complemento 2 su 8 bit calcolare una somma e riportare il trattato della somma in binario e in decimale e segnalare se c'è stato overflow e perché. Ok. Allora, B, D e 60 in base 16 prendiamo una pagina nuova in base 16 B, D B, D come lo scrivo? Allora, B vale 11 A vale 10, B vale 11 in binario l'11 si scrive 8 più 3 quindi 1, 0, 1, 1 questa è la B la D A, B, C, D 10, 11, 12, 13 la D vale 13 quindi 8 più 5 8, 4, 2, 1 questo è il numero B, D in decimale in binario l'altro numero era 6, 0 non lo chiamo 60 perché non siamo in base 10 non è un 60 6, 0 quindi si scrive anche qua è un numero di due cifre esadecimali quindi 8 cifre binarie il 6 quindi sarà 4 più 2 quindi 8, no 4, 2, 1 non c'è e 0, vabbè, sono 4 zeri ok, quindi questa è la conversione immediata a occhio, diciamo così da base 16 a base 2 poi il testo cosa mi dice? mi dice considerali come se fossero codificati in complemento a 2 su 8 bit e tutta questa frase non vuol dire nulla nel senso che non devo farci nulla cioè, sono già codificati in complemento 2 non mettetevi a fare una fantomatica conversione in complemento 2 che non significa nulla ok? sono già codificati in complemento 2 e devo semplicemente fare una somma quindi io qua li ho messi abbastanza incolonnati in modo da poter fare la somma cambiamo colore così vediamo la somma 1 più 0 fa 1 0 più 0 fa 0 1 più 0 fa 1 1 più 0 fa 1 vabbè, qui ci sto sommando 0 quindi faccio facile 1 più 0 fa 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 qui ho 1 più 0 più 1 fa 0 fa 2 quindi 0 col riporto di 1 e quindi ho 1 più 1 più 0 che fa di nuovo 0 col riporto di 1 riporto che ovviamente non viene non viene salvato da nessuna parte perché ho 8 bit e li ho usati tutti e 8 ok? viene perso questo riporto in uscita dal bit più significativo ma noi sappiamo che in complemento 2 avere o non avere un riporto in uscita dal bit più significativo non ci dà nessuna informazione utile invece per rispondere alla domanda calcolare la somma è questo il risultato della somma è questo somma uguale questa cosa qui l'altra domanda ci chiede riportare il risultato della somma in binario e ce l'abbiamo fatto in decimale lo facciamo tra un attimo perché è più facile dire se c'è stato overflow oppure no e la risposta è anche qua è che non c'è stato overflow perché come abbiamo potuto vedere il primo numero è un numero negativo il secondo numero è un numero positivo quindi operandi di segno di scorde operandi di scordi significa no overflow mai ok l'ultimo passaggio è quello di convertire di dire qual è il valore decimale della somma beh in questo caso questo qua è un numero molto semplice perché è un numero positivo possiamo anche diciamo così calcolarlo occhio perché qui abbiamo un sedici guardiamo le potenze di due 1 2 4 8 16 quindi abbiamo 16 più 8 più 4 più 1 quindi 16 più 8 fa 24 più 4 28 più 1 fa 29 quindi la nostra somma fa 29 in base 10 se vogliamo proprio essere precisi ce lo scriviamo perché qui abbiamo numeri di tre basi diverse ok e questo è concluso passiamo a quello dopo anzi quello prima numero 20 dati due numeri in complemento 2 scritti in formato esodecimale e qui vedete che sono in formato esodecimale su 16 bit perché vediamo che abbiamo 4 cifre in base 16 ogni cifra in base 16 corrisponde a 4 bit quindi 4 per 4 16 bit dire qual è il valore maggiore dei due il valore maggiore senza necessariamente convertirlo in decimale perché altrimenti qua ci metteremo a fare un bel po' di conti quale dei due è più grande e poi sapendo che sono in complemento 2 e poi calcolare la somma dei due numeri e rappresentarla sempre in formato esodecimale qui non ci viene detto come fare a calcolare la somma la somma la possiamo fare in base 16 in base 2 o in base 10 come preferiamo vediamo un attimo quali sono le nostre opzioni più semplici allora comincio a trascrivere i due numeri che sono AF04 AF04 e l'altro numero è invece 8711 8711 allora questi li possiamo scrivere in binario forse per facilità di lettura quindi A vale 10 quindi 1 0 1 0 F vale 15 quindi 1 1 1 1 metto un po' di spazio tra un gruppetto tra ciascun gruppetto di 4 bit per facilità di lettura 0 è facile 0 è facile 4 0 4 è 0 1 0 0 l'altro numero 8 7 1 1 8 1 0 0 0 7 0 1 1 1 e poi 1 i due uni sono 0 0 0 1 e 0 0 0 1 allora cosa possiamo dire di questi due numeri possiamo dire che entrambi sono numeri negativi minore di 0 minore di 0 perché se sono in complemento 2 il bit più significativo vale 1 e questo determina il segno sono due numeri molto grandi perché questo 1 vale meno 2 alla quindicesima quindi un numero dell'ordine del 60.000 ma non ci viene richiesto di fare il conto semplicemente guardiamo questi numeri sono entrambi i numeri negativi ok e quale dei due è più grande allora ovviamente in complemento 2 abbiamo sempre una parte negativa che è il bit di segno e tutto il resto dal bit di segno in avanti è una parte positiva sono dei contributi positivi allora di questi due numeri qual è quello che ha il contributo positivo più grande il primo il primo perché c'è un 1 qua in una potenza del 2 maggiore dove l'altro ha degli 0 quindi semplicemente guardando la rappresentazione dei numeri senza fare il conto di quali sono so che il numero il primo numero chiamiamoli A e B A e B sono sicuro che A è maggiore di B perché sono entrambi negativi e la parte positiva diciamo il contributo positivo di A è maggiore del contributo positivo di B perché c'è incontro per primo sui pesi maggiori da una cifra 1 una cifra che dà un contributo positivo quindi non ho bisogno di fare i calcoli per determinare qual è il più grande dei due lo stesso ragionamento farei anche se i numeri fossero positivi se fosse 0,0 vado lo stesso a vedere qual è il più grande tra i numeri rimanenti se invece fosse di segno di scorde sarebbe banale perché se è un numero positivo è sempre maggiore di un numero negativo però se hanno lo stesso segno io vado a vedere le altre bit e vado a capire immediatamente qual è quello che ha la potenza di 2 più grande in pancia e allora sarà quello più grande cosa mi chiede ancora questo esercizio calcolare la somma dei due numeri e rappresentarla poi in formato decimale allora visto che lì ho già scritti in binario magari faccio prima mi faccio spazio faccio prima a fare la somma in binario la potrei fare direttamente in decimale ma magari non siamo tanto abituati con i numeri in base a 16 con i riporti la possiamo fare in binario quindi qui abbiamo 0 più 1 è 1 0 più 0 è 0 1 più 0 è 1 0 qui nessun riporto finora 1 3 volte 0 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 più 1 1 più 1 fa 1 col riporto di 1 1 col riporto di 1 qui abbiamo 1 più 1 più 0 che fa 0 col riporto di 1 qui abbiamo un 1 1 più 0 fa 1 0 più 0 fa 0 1 più 1 fa 1 col riporto di 1 che quest'ultimo riporto non viene considerato giustamente abbiamo sommato due numeri negativi e il risultato è venuto fuori negativo per fortuna vuol dire che non c'è stato overflow se con questa somma il risultato fosse venuto fuori positivo e quindi qui fosse venuto 1 0 anziché 1 1 allora sarebbe stato una condizione di overflow questo numero qua lo posso scrivere a sua volta in base a 16 di nuovo scrivendo raggruppando leggendo le cifre a 4 a 4 quindi 1 0 1 1 sono 8 più 3 11 se non sbaglio sì 8 più 3 11 11 quindi è la lettera B qua abbiamo 0 1 1 0 che è un 6 0 0 0 1 che è un 1 e 0 1 0 1 che è un 5 ok allora su questo c'è una domanda di Davide che mi chiede ma essendo entrambi i numeri negativi il più grande non dovrebbe essere il numero più vicino allo 0 e quindi il numero B no anzi sì è vero che il numero essendo negativi deve essere il più grande e il numero più vicino allo 0 ma ricordiamoci come sono fatti i numeri in complemento 2 i numeri in complemento 2 sono fatti così meno 2 alla 15 più x dove x sono gli altri bit che sono tutti positivi questa x qua io non la scrivo sarebbe la sommatore di a con i per 2 elevato i ecc ok quindi questo termine è costante e per sapere quale è maggiore di 2 vado a confrontare semplicemente queste parti qua queste parti qua è fatta solo di valori positivi quindi chiaramente che è una zavorra negativa più un certo numero se questo numero positivo che sto sommando è più grande il numero complessivo è comunque più grande Paola non capisco mi chiede non capisco perché il carry sull'MSB vada trascurato perché la risposta è che in complemento 2 non ci dà nessuna informazione ok io posso avere delle somme prima di tutto un carry sull'MSB non so dove metterlo non posso metterlo da nessuna parte ok quindi sono per forza obbligato a dimenticarlo a non metterlo nel risultato ma in complemento 2 non mi dà problemi nel senso che in complemento 2 possono esserci delle facciamo addizioni addizioni che danno un carry sull'MSB e non danno nessun overflow come questa perché il risultato è corretto oppure operazioni in cui non c'è un carry sull'MSB ma il risultato è sbagliato cioè è assolutamente indipendente dipende poi dai numeri che ci sono dai riporti che sono in gioco ok quindi non andate a guardarlo il riporto in uscita può esserci può non esserci ma se state lavorando in complemento 2 non lo guardate se stessimo invece lavorando in binario puro allora sì quello è un indicatore chiaro della condizione di overflow ok invece il complemento 2 l'overflow lo verifichiamo solamente andando a vedere se i segni sono corretti se i segni sono corretti teoremino non dimostrato se i segni sono corretti allora tutto il risultato è corretto Antonino all'esame dobbiamo scrivere solo i risultati o le varie operazioni che facciamo all'esame dovete scrivere ciò che viene richiesto quindi in questo caso c'è scritto dire qual è il valore maggiore quindi non i passaggi calcolare la somma quindi dovete scrivere il risultato della somma e poi rappresentarle in formato esadecimale quindi solamente i risultati poi non fa male mettere una o due parole di motivazione cioè perché qual è il valore maggiore di 2 è 8011 e mi dice anche perché magari altrimenti sembra che l'abbia tirato a caso però una parola in più per motivarlo va bene però i passaggi dei calcoli non servono non sono richiesti a meno che non ci sia proprio scritto indicando i vari passaggi però chiaramente dovendo scrivere in una casella di testo è abbastanza scomodo indicare i vari passaggi ok Mattia non ho capito perché nell'ultima somma del bit più sinistra il risultato sia 1 allora nell'ultima somma il risultato più sinistra il bit è 1 perché ho perché ho sbagliato i conti grazie ho sbagliato i conti e quindi ho anche sbagliato le conclusioni è vero perché 1 più 1 qua fa 0 non avendo un riporto da sommare e fa 0 quindi chiedo scusa correggiamo questo non è un 1 ma è 1,0 ovviamente dal riporto ma come abbiamo detto il riporto ce ne freghiamo e allora a questo punto effettivamente ci è capitata una condizione di overflow quindi il fatto che qua ci sia 1,0 io ho fatto la somma di un numero negativo più un numero negativo mi ha dato un risultato positivo e quindi questo è un risultato errato in questo caso ho overflow scusatemi per l'ora di calcolo è giusto questo grazie a Mattia per avercelo segnalato però l'overflow come dicevamo prima me ne accorgo perché sommando due numeri negativi il risultato deve venire negativo dai conti mi è venuto positivo dai conti giusti non quelli sbagliati che ho fatto la prima volta dai conti giusti mi è venuto positivo e quindi il risultato è errato e possiamo dichiarare una situazione di overflow ok non vedo altre domande quindi magari proviamo ad andare avanti al 19 al 19 ci chiede di considerare i numeri A 1,0 1,0 1,0 1,0 1 codificato in complemento 2 e B 1,0 1,0 1,0 codificato in modulo segno entrambi su 6 bit quali dei due numeri rappresentano il valore maggiore allora questo probabilmente facciamo prima convertirli entrambi in decimale e vediamo che cosa succede ok allora pagina nuova abbiamo il numero A che ci dicono che è 1,0 1,1 0,1 1,0 1,1 0,1 in complemento A2 e poi il valore B che è 11,0 1,1 quindi 1,1 0,0 1,1 in modulo e segno allora il valore A quanto vale allora qui siamo su 6 bit magari possiamo fare direttamente il calcolo applicando la formula quindi i pesi le potenze di 2 sono 1,2,4,8,16 32 quindi abbiamo un meno 32 più 8 più 4 più 1 8,4,1 ok allora questo quanto fa allora meno 32 più 8 fa meno 24 meno 24 più 4 fa meno 20 meno 20 più 1 fa meno 19 per favore ditemi se ho sbagliato i conti perché facendogliamente succede mentre invece nel caso del modulo e segno si ragiona in modo diverso il primo bit rappresenta il segno che in questo caso è un segno negativo e i bit rimanenti rappresentano il valore assoluto quindi in questo caso scriverò che il valore è meno e poi il valore del numero binario positivo delle cifre rimanenti quindi in questo caso avrò un 16 più 8 4 non ci sono più 2 più 1 quindi ho meno 19 quindi in questo caso ho due numeri che sempre se non ho sbagliato i calcoli e non ci metto la mano sul fuoco che ho scoperto che il valore di A è uguale al valore di B cioè valgono entrambi l'equivalente decimale del meno 19 semplicemente sono codificati con due codifiche diverse noi le operazioni aritmetiche somma e sottrazioni sul modulo di segno non le facciamo non le chiediamo ma ovviamente la conversione da decimale al modulo di segno si fa semplicemente andando a scorporare il segno rispetto al valore assoluto del numero al modulo del numero ok allora passiamo se non ci sono domande passiamo al prossimo 18 si considerano i numeri binari di nuovo questi qui 1 0 1 0 0 1 e 1 1 0 0 0 0 questa volta sono tutti sono entrambi rappresentati complemento a 2 si esegue la somma più B specificando se si esegue una condizione di overflow diciamo che si somigliano un po' tutti questi esercizi ecco non dovrei dirvelo ma si convertono inoltre gli operandi e il risultato in base 10 ok qui in questo caso lavoriamo non c'è scritto ma si vede che stiamo lavorando su 6 bit quindi gli operandi sono su 6 bit e il risultato ovviamente dovremmo scriverlo su 6 bit allora A uguale 1 0 1 0 0 1 scriviamo i numeri A uguale 1 0 1 si è già dimenticato 0 0 1 B uguale 3 1 e 3 0 1 1 1 0 0 0 ok cosa ci chiede di fare ci chiede di fare la somma di A più B va bene allora facciamo la somma li ho già abbastanza incolonnati quindi possiamo procedere immediatamente 1 0 0 0 col riporto di 1 0 col riporto di 1 1 stavolta è giusto col riporto di 1 che questo ultimo riporto chiaramente viene ignorato quindi la somma è uguale a questa cosa qua in questo caso ho sommato due numeri negativi il risultato è negativo se di nuovo non ho sbagliato i conti però in questo caso 1 più 1 ma c'era un riporto di 1 dalla cifra precedente quindi fa 3 e quindi 1 col riporto di 1 dovrebbe essere corretto mi dà un numero negativo ancora negativo e quindi il risultato è corretto quindi no overflow prima dicevamo no overflow perché gli operandi sono discordi in questo caso gli operandi sono concordi sono entrambi negativi e quindi devo proprio andarlo a controllare il segno di risultato ma il segno di risultato in questo caso è giusto e quindi non c'è overflow cosa mi chiede ancora l'esercizio convertire operandi il risultato in base 10 ok quindi in base 10 dunque qui siamo su di nuovo su pochi bit si fa veramente più in fretta applicare la formula la definizione quindi 1 2 4 8 6 32 abbiamo meno 32 più 8 più 1 e l'altro e abbiamo un meno 32 più 16 più 8 allora questo qua 32 più meno 9 fa 23 meno 23 l'altro è 32 16 8 fa 24 quindi fa meno 8 e quest'ultimo abbiamo meno 32 più 1 che dovrebbe fare meno 31 e se facessimo l'operazione 23 più 8 fa proprio 31 anche in decimale quindi per fortuna se vogliamo abbiamo una verifica in più ok ok allora andiamo avanti numero 17 spiegare perché i numeri con la virgola vengono in genere immagazzinati con la notazione in virgola mobile IE3754 vista brevemente lezione e non con altri possibili sistemi in altre parole quali sono i vantaggi della virgola mobile questa è poi la domanda vera e propria quali sono i vantaggi della virgola mobile i vantaggi della virgola mobile sono che è possibile rappresentare dei numeri di ordini di grandezza molto diversi ok quindi in virgola mobile mi permette di rappresentare ordini di grandezza molto diversi perché? ma perché usa la notazione scientifica quindi abbiamo più o meno la mantissa per 2 elevato più o meno un esponente e soprattutto lavorando sull'esponente che se è un esponente positivo molto grande possono rappresentare dei numeri 10 alla 10 10 alla 20 10 alla 30 e se l'esponente è negativo posso rappresentare dei numeri 10 alla meno 10 10 alla meno 20 eccetera eccetera quindi un range della rappresentazione estremamente ampio ok mentre invece quindi l'esponente mi dà l'escursione in qualche modo il range di valori il range di ordini di grandezza che posso rappresentare invece la mantissa mi dà invece la precisione quindi più bit ho sulla mantissa più è grande la precisione se io avessi per assurdo se avessi dei casi in cui dovessi rappresentare dei numeri con una precisione molto elevata ma so che il range dei numeri è molto ristretto quindi sono tutti numeri magari da 0 a 100 ma ho bisogno di moltissima precisione allora a questo punto il virgola mobile non sarebbe la rappresentazione più efficace perché sprecherei dei bit per rappresentare l'esponente quando poi l'esponente magari è sempre sempre intorno a 0 ecco ad esempio sempre vicino allo 0 e allora quei bit lì sarebbe magari più utile usarli per la mantissa per rappresentare una precisione maggiore quindi rispetto a una rappresentazione in virgola fissa o una rappresentazione senza esponenti diciamo senza parte esponenziale i bit sono sempre ragioniamo a parità di bit è chiaro che si confronta un numero rappresentato su 16 bit con un numero rappresentato su 64 quello su 64 avrà maggiore estensione e maggiore precisione ma a parità di bit come li uso questi bit allora se voglio avere un range di rappresentazione molto ampio mi conviene usare un po' per la mantissa e un po' per l'esponente se invece voglio avere un range ho bisogno di un intervallo di rappresentazione anche limitato l'esponente lo posso lasciare a 0 lasciare sottinteso e usare quei bit in più per la mantissa e quindi avrò una rappresentazione in virgola fissa che però appunto è applicabile solamente dove io già a priori conosca qual è l'intervallo di variazione di questi numeri e questo intervallo non sia troppo ampio non scavalchi troppi ordini di grandezza questo è un pochino il ragionamento che si poteva fare chiaramente in poche parole relativamente a questa domanda ok la successiva 16 è di nuovo una domanda di calcolo dati seguenti di un numero in complemento su 6 bit sommarli indicando se vi è overflow indicare anche il loro valore in decimale con un segno ci mancherebbe che non ci metta il segno ok allora prendiamo una pagina nuova 101 110 101 ops non facciamolo in giallo se no non si legge 101 110 e l'altro numero è invece 01 1000 011 e 3 volte 0 cosa devo farci su questi numeri sommarli complemento 2 sapendo che sono in complemento 2 su 6 bit indicando se c'è overflow ok facciamoci la somma ok facciamo la somma 0 più 0 fa 0 1 più 0 fa 1 1 1 più 1 fa 0 col riporto 1 più 1 fa 0 col riporto e 1 più 1 fa 0 col riporto a perdere di nuovo qua no overflow no overflow perché operandi sono discordi discordi cosa ci chiede ancora il testo indicare anche il loro valore in decimale quindi convertiamo in decimale e convertito in decimale diciamo che abbiamo detto di nuovo 1 2 4 8 6 32 fra un meno 32 più 8 più 4 più 2 8 più 4 più 2 quindi 8 più 4 12 2 14 32 32 meno 14 oh mamma allora 32 meno 2 fa 30 30 meno 8 fa 22 22 meno 4 fa 18 meno 18 datemi un conforto spero di non aver sbagliato e quest'altro invece sono 16 più 8 questo lo so fare fa 24 più 24 non è chiaro se il testo ci chiedesse anche il risultato ma il risultato ovviamente è 4 più 2 quindi fa più 6 e ovviamente quadra anche l'eventuale addizione fatta in decimale ok ok allora passiamo a quello successivo che qua è indicato con il numero 15 il nostro conto alla rovescia si sommano i seguenti numeri binari in complemento 2 espressi su 8 bit indicando se si genera un overflow e in questo caso per agganciarmi alla risposta che ho dato prima si riportino tutti i passaggi per risoluzione quindi anche i passaggi dei calcoli in certo senso in questo caso c'è una somma solo da fare non ci sono conversioni da fare quindi passaggi non è che ce ne siano molti non c'è da fare la conversione dei numeri eccetera eccetera solamente i passaggi per la somma quindi magari uno indica dove sono i riporti poi rispondo ad Antonino finiamo questo esercizio allora in questo caso di nuovo sono due numeri su 8 bit prendiamo scriviamo in blu il testo che è 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 e l'altro è 1 1 1 0 e poi 1 0 1 0 ok vuoi che risommi? allora risommiamo 1 più 0 1 1 0 0 con il riporto di 1 1 1 1 0 con il riporto di 1 allora in questo caso indipendentemente dal riporto che abbiamo avuto c'è stato un problema di segno perché ho sommato due numeri positivi negativi perdono il risultato è venuto fuori negativo quindi ho un overflow perché il segno del segno del risultato è errato ok e beh questo è di nuovo la classica somma in complemento 2 in cui bisogna solo fare attenzione a gestire bene i riporti e a e a e interpretare l'overflow correttamente sui segni ecco la domanda di Antonino era ma stai facendo delle somme ma invece dovremmo poter o ci può capitare di dover fare delle differenze delle sottrazioni tra numeri in complemento 2 sì è possibile ma non crea particolari problemi nel senso che facciamo finta di doverlo fare su questi due no e 1 0 0 se mi avessero chiesto di sottrarre anziché sommare questi numeri ci sto prendendo a caso ovviamente prendiamo questi qui 1 0 1 0 la sottrazione la farei di nuovo nello stesso modo in cui farei una sottrazione in in binario puro quindi usando le regole solite 1 meno 0 fa 1 0 meno 1 non si può fare quindi devo prendere un prestito prendo un prestito di 1 a sinistra che diventa 2 sulla mia decina sulla mia cifra e quindi a questo punto 2 meno 1 fa 1 poi qui avrò 0 meno 0 meno 1 di nuovo non si può fare quindi dovrò prendere un prestito dalla cifra alla mia sinistra a questo punto avrò 2 meno 1 che fa 1 e qui avrò 1 meno 1 ancora meno 1 che di nuovo non si può fare quindi devo prendere un ulteriore prestito e avrò a questo punto 2 più 1 3 meno 1 meno 1 che fa 1 2 più 3 meno 1 2 volte fa 1 0 0 meno 1 di nuovo mi serve un prestito quindi avrò 2 meno 1 che fa 1 qui avrò 0 meno 1 meno 1 di nuovo mi serve un prestito quindi prendo un altro 2 e tolgo un 1 a sinistra questa volta 2 meno 1 meno 1 fa 0 qui avrò 0 meno 1 meno 1 non si può fare mi serve un prestito 2 meno 1 meno 1 fa di nuovo 0 e l'ultimo bit avrò 1 meno 1 e con meno 1 da restituire ovviamente allora non posso farlo devo prendere un prestito prendo un prestito da nulla da un bit che non esiste ma fa lo stesso lo ignoriamo 2 più 1 3 meno 1 meno 1 fa 1 ecco questo qua è il risultato 1 0 0 1 1 1 1 1 sarebbe il risultato della sottrazione di questi due numeri ho usato lo stesso metodo di operazione semplicemente usando i prestiti anziché i riporti come interpreto il risultato? può dare overflow oppure no? lo interpreto la regola è sempre la stessa cioè i segni sono corretti oppure no in questo caso ho fatto la sottrazione tra due numeri negativi quindi fare la sottrazione tra due numeri negativi è come fare la somma tra due numeri di segno diverso è come fare il primo più l'opposto del secondo che a questo punto sarebbe positivo e quindi non può mai dare overflow nel caso di sottrazione chiaramente la regola è diversa se i numeri sono concordi entrambi positivi entrambi negativi non avrò mai overflow invece nella somma se i numeri sono discordi chiaro no? la sottrazione non è altro che una somma algebrica con un segno cambiato invece se i numeri fossero discordi allora devo fare attenzione al segno più meno meno deve fare più se facesse meno sarebbe overflow meno un numero negativo meno un numero positivo deve dare un numero negativo perché se salta fuori positivo mi ha dato overflow quindi nel caso della somma i numeri discordi non mi danno mai overflow numeri concordi devo controllare il segno che sia quello che mi aspetto nel caso della sottrazione numeri concordi non mi danno mai overflow sì numeri discordi invece devo andare a verificare che il segno sia quello che mi aspettavo ma per il resto la meccanica è sempre la stessa ok allora andiamo al 14 quale relazione esiste tra i due valori a e b rappresentati in complemento 2 rispettivamente su 5 e 7 bit maggiore minore o uguale allora qui sono due rappresentazioni stranamente per la prima volta su un numero di bit diversi quindi facciamo attenzione a interpretarli quindi a prendiamo la matita a è uguale a 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 e b è uguale a 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 io li ho incolonnati così per avere le unità allineate e non le cifre più significative come sempre i numeri conviene sempre incolonnarli sulla colonna dell'unità allora non si possono direttamente confrontare questi numeri perché sono su due numeri di bit diversi e quindi hanno delle formule che sono diverse se fossero numeri positivi codificati in binario puro allora diremo sicuramente a è maggiore di b perché ha più cifre 1000 e più di 100 perché ha altre cifre anziché 2 però in complemento 2 non è detto perché alcune di queste cifre possono darmi un contributo negativo allora in questo caso la cosa più semplice è quella di fare una conversione in decimale e vediamo che numeri escono fuori allora in questo caso sono 7 bit quindi le potenze sono 1 2 4 8 16 32 64 quindi questo 1 qua vale meno 64 e le altre cifre invece valgono positivo più 32 più 16 più 2 più 1 nel secondo caso il valore negativo il numero è sempre negativo mi dice che sono codificati in complemento 2 è sempre negativo perché inizia con un 1 su 5 bit ma il valore di questo 1 è diverso non è meno 64 ma è 1 2 4 8 16 meno 16 e poi il resto sono sempre positivo più 2 più 1 allora se faccio se finisco i calcoli allora avrò meno 64 più 32 fa meno 32 più 16 fa meno 16 meno 16 più 3 fa meno 13 nell'altro caso meno 16 più 3 fa anche meno 13 quindi in questo caso a è uguale a b cioè i due numeri hanno lo stesso valore e sono rappresentati semplicemente su un numero di bit diverso questo tra l'altro è un caso particolare di un principio che si chiama di estensione del segno nel senso che noi abbiamo dei bit qua che mancano e se noi volessimo passare dalla rappresentazione su 5 bit alla rappresentazione su 7 bit dovremmo aggiungere lì non degli zeri ma delle coppie del bit di segno si estende il bit di segno quindi se il bit di segno è 1 qua ci dovrei mettere 1 1 e guarda caso è esattamente identico a quello di sopra però noi i meccanismi di estensione del segno non li abbiamo visti non li abbiamo studiati perché non ci serve passare da rappresentazioni di dimensione diversa quindi ma non era necessario diciamo così fare questo ragionamento bastava semplicemente convertire i numeri e confrontarli ok allora andiamo al prossimo che è il 13 considerando operandi il risultato su 8 bit si esegue la somma dei seguenti valori esedicimali che rappresentano valori in complemento 2 quindi valori in complemento 2 su 8 bit che noi abbiamo inizialmente rappresentato in base 16 con l'eventuale presenza di overflow vabbè questo qui ormai questa tipologia tendiamo a farlo abbastanza ad occhi chiusi quindi noi abbiamo B1 ops non facciamolo in giallo B1 e l'altro è 3F allora lo scriviamo in binario per facilità di esecuzione della somma quindi B vale 11 8 più 3 1 0 1 1 1 3 0 e 1 1 3 0 0 1 1 F vale 15 quindi tutti uni sta cosa qua devo sommarla giusto la somma esatto e quindi 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 qui ho un 3 quindi un 1 col riporto di 1 qui un altro 3 1 col riporto di 1 1 più 0 più 0 fa 1 senza riporto 1 più 0 fa 1 senza riporto anche qua no overflow per segni discordi i segni di operandi erano discordi cosa diceva ancora lui? sindicato no non diceva nient'altro quindi questo già conclude questo esercizietto semplice calcolino vediamo quelli dopo 12 in quale base è corretta la seguente operazione? beh questo è un po' diverso 2 0 più 1 2 uguale 3 2 le risposte possibili possono essere in base a 3 nessuna base in qualunque base in qualunque base maggiore o uguale a 4 allora come possiamo ragionare facciamo così prendiamo questa parte qui e la incolliamo così poi ci scriviamo sopra allora in base a 3 è possibile che questa operazione sia rappresentata in base a 3 no senza neanche guardare senza neanche fare i calcoli perché le cifre della base a 3 sono le cifre 0 1 e 2 e qua c'è una cifra 3 che non è di sicuro una cifra valida in base a 3 punto e studiamola prima in nessuna base non lo so vediamo in qualunque base ma allora se è sbagliata la 1 allora per logica è sbagliata anche la 3 ma perché qualunque base comprenderebbe anche la base 3 abbiamo appena visto che la base 3 non è e quindi no così come potremmo fare sul ragionamento per la base 2 cioè no ci sono delle basi in cui è palesemente sbagliato perché non ci sono quelle cifre ad esempio quindi rimane in nessuna base oppure in qualunque base maggiore o uguale a 4 ma io c'è una base in cui questo è vero no che sono in base 10 quell'operazione lì è un'operazione corretta no funziona in base 10 20 più 12 fa 32 quindi visto che le opzioni sono in nessuna base oppure in qualunque base maggiore o uguale a 4 io so che c'è almeno una base in cui è valido tipo la base 10 quindi sicuramente la 2 non è ad esempio contro esempio la base 10 in base 10 è valida e quindi non è vero che non è valida in nessuna base quindi se vogliamo per differenza è valida in qualunque base maggiore o uguale a 4 per esclusione insusate non per differenza è valida in qualunque base maggiore o uguale a 4 maggiore o uguale a 4 perché ovviamente essendoci la cifra 3 la base deve essere almeno pari a 4 altrimenti il numero non si può rappresentare e in qualunque base da lì in poi questa operazione si scrive sempre nello stesso modo in base 4 in base 5 in base 6 in base 7 perché non c'è un riporto 0 più 2 non genera riporto 2 più 1 non genera riporto né in base 4 né a maggior ragione nelle basi successive e quindi qualunque base noi prendiamo purché sia almeno la base 4 quella operazione lì avviene correttamente però appunto senza stare a fare la dimostrazione che vale in qualunque base si poteva andare per esclusione semplicemente osservando 1 che c'era la cifra 3 e 2 che l'operazione valeva in base 10 e poi si ragiona per logica e si arriva alla conclusione corretta ok esercizio 11 convertire in complemento 2 e modulo di segno su 5 bit i seguenti valori decimali quindi ci dobbiamo fare due conversioni prima in complemento 2 e poi in modulo di segno i seguenti valori decimali su 5 bit ok allora apriamo la pagina nuova meno 16 chiamiamolo A uguale meno 16 e B chiamiamolo più 10 ok allora facciamoli prima in allora in complemento 2 e poi in modulo di segno allora in complemento 2 cerchiamo di fare un po' più in più di vita questa riga allora in complemento 2 cosa posso avere posso su 5 bit quindi le potenze del 2 su 5 bit sono 1 2 4 8 16 ok in complemento 2 saranno 1 2 4 8 meno 16 quindi il numero A in complemento 2 lo scriviamo meno 16 più 8 più 4 più 2 più 1 anzi più 0 per tutti gli altri ok è meno 16 più 0 poi se volete potete farvi il più 16 convertirlo in decimale eccetera tutta l'altra fila che abbiamo fatto sui primi esercizi per convertire i numeri negativi da decimale binario ma in questo caso 5 bit è talmente semplice che uno si chiede ma quanto vale il valore negativo su 5 bit meno 2 alla quarta 2 alla quarta quando è 16 oh guarda è proprio lui se fosse stato meno 17 il numero avrei detto che su 5 bit non si poteva rappresentare se fosse stato meno 12 allora avrei detto ok meno 16 più 4 e allora avrei rappresentato il 4 nella parte positiva su numeri piccoli si fa più in fretta così il più 10 invece è un numero positivo quindi ci metto 0 come bit di segno e poi sui 4 bit rimanenti rappresento il 10 che su 4 bit correttamente ci sta come 1 0 1 0 8 più 2 questo è in complemento 2 complemento a 2 in modulo e segno modulo e segno questi due numeri come si rappresentano allora il numero B che è un numero positivo si rappresenta nello stesso identico modo quindi in questo caso coincidono 0 1 0 1 0 ok è sempre così in binario puro in complemento 2 e in modulo e segno i numeri positivi si scrivono nello stesso modo i numeri negativi invece si scrivono in modo diverso meno 16 si dovrebbe scrivere 1 ok per il valore negativo seguito su 4 bit dal valore quindi si chiama una scatolina con 4 bit dal valore più 16 ok in modulo e segno separo il segno che è negativo 1 e il modulo che è in questo caso il valore assoluto è 16 e questo 16 lo devo esprimere su 4 bit ma su 4 bit non lo posso esprimere a 16 perché su 4 bit il valore massimo che posso scrivere è 1 1 1 1 che vale 15 2 alla 4 meno 1 il valore massimo è 2 alla n meno 1 2 alla 4 meno 1 fa 15 non fa 16 e quindi non riesco a rappresentarlo non è rappresentabile rappresentabile se vogliamo potremmo chiamarlo forse overflow ma in realtà non è un overflow perché non è un'operazione semplicemente quel numero lì meno 16 in complemento a 2 scusate in modulo e segno su 5 bit non esiste non si può rappresentare e quindi in questo caso non ci posso far nulla ok il complemento a 2 può arrivare fino a meno 16 che è il minimo numero rappresentabile su 5 bit in complemento a 2 ma in modulo e segno invece non ci si arriva si arriva solamente fino al meno 15 il numero più piccolo che posso rappresentare sarà meno 15 1 seguito da 1 1 1 1 il meno 16 non c'è c'era altro questo esercizio convertire i seguenti valori no niente non ci dice non dobbiamo fare nessuna operazione semplicemente convertirli e ragionarci ok allora andiamo successivo numero 10 dati seguenti tra i numeri su base 8 e in complemento a 2 calcolare la somma totale rappresentare sempre in base 8 su 8 bit questo è un pochino ambiguo innanzitutto parlo di numeri in base 8 quindi non i numeri in base 2 non i numeri in base 10 non i numeri in base 16 non ci preoccupa molto nel senso che in base 8 in base 8 qui abbiamo i numeri che sono chiamati 7 che sono chiamati 1 3 e che sono chiamati 1 1 e se noi volessimo questi numeri qua rappresentarli in base 10 cosa avremmo? avremmo 7 è sempre 7 13 cos'è? allora clicchiamo la formula 3 sono unità 1 per 8 alla prima qui saranno le potenze 3 per 8 alla 0 più 1 per 8 alla 1 quindi 8 più 3 in base 10 sarebbe un 11 e questo 1 1 sarebbe 8 più 1 che in base 10 fa 9 applicando la definizione della somma delle cifre per la potenza della base in base 2 cosa potrei fare? allora posso fare due operazioni o prendo la base 10 e la converto oppure sulla base 8 faccio un ragionamento analogo a quello che facevo sulla base 16 vi ricordate che sulla base 16 prendevo i bit a 4 a 4 e li convertivo in base 8 è la stessa cosa ma i bit li prendo a 3 a 3 perché? perché 8 è 2 alla terza così come 16 era 2 alla quarta quindi ogni cifra della base 8 corrisponde a 3 bit a 3 cifre binarie quindi il 7 corrisponderà a una tripletta 1 1 1 che vale 7 il 13 scusate non il 13 1 3 in base 8 corrisponderà a una tripletta per rappresentare l'1 0 0 1 e una tripletta per rappresentare il 3 0 1 1 l'1 1 corrisponderà alla tripletta per l'1 seguita ad un'altra tripletta sempre per l'1 ok? questa è la rappresentazione in base 2 sul numero di bit minimo in certo senso tra l'altro se noi avessimo fatto la conversione dalla base 10 alla base 2 ovviamente avremmo arrivato esattamente i stessi risultati quindi qui mi dice di calcolare poi la somma totale date i seguenti numeri finora in realtà i calcoli che abbiamo fatto sono serviti a noi per capire che numeri avevamo tra le mani però visto che parlava di numeri su 8 bit quando si parla di bit si parla ovviamente di base 2 quindi per rappresentare questi numeri sempre in base 2 su 8 bit quindi base 2 su 8 bit li devo estendere tutti aggiungendo un numero di zeri opportuno questi sono tutti numeri positivi no? 7 13 eccetera e quindi ci aggiungo i zeri davanti per riempire per arrivare fino a 8 bit quindi nel mio caso avrò 5 zeri seguiti a 3 uni e qui 8 bit 1 2 3 4 5 6 7 8 qua dove ne avevo già 6 ne aggiungo solamente 2 davanti e poi ci aggiungo il numero 0 0 1 0 0 1 0 1 1 perdono gommetta matita 1 e poi il terzo anche qua aggiungo 2 zeri davanti e avrò il numero 0 0 1 0 0 1 il terzo poi cosa mi dice? calcolare la somma totale facciamo la somma di questi 3 signori e vediamo cosa viene fuori verrà fuori cambio il verde così si vede meglio per le riparazioni 1 più 1 più 1 fa 3 cioè 1 col riporto di 1 1 più 1 più 0 più 1 di riporto fa 3 quindi 1 col riporto di 1 qui abbiamo 2 quindi 0 col riporto di 1 qui abbiamo 3 quindi 1 col riporto di 1 1 più 0 più 0 fa 1 e poi davanti abbiamo solamente 0 quindi questa è la somma totale io ho fatto la somma direttamente di 3 numeri binari se uno non è sicuro di farlo di 3 fa i primi 2 e poi il risultato lo somma al terzo per carità questo è il risultato della somma su 8 bit in binario il testo di esercizio mi chiede di scriverlo sempre su in base 8 allora per rappresentarlo in base 8 userò lo stesso trucco di prima nel senso di prendere i bit a 3 a 3 ovviamente per prendere i gruppi di 3 se ho 8 bit ne prendo 3 a 3 e poi gli ultimi 2 vabbè non solamente 2 fingiamo che ci sia uno 0 qua davanti perché ne ho solo 8 e non 9 3 gruppi di 3 farebbe 9 però questo mi fa dire che in base 8 questo risultato è 0 3 3 0 perché ho questi primi 3 numeri niente seguito da due 0 3 perché ho la tripletta 0 1 1 e 3 perché ho la tripletta 0 1 1 quindi senza passare se notiamo la base 10 l'abbiamo scritta forse per convincerci di cosa stava succedendo ma in realtà poi non l'abbiamo usata perché siamo passati dalla base 8 alla base 2 semplicemente usando i tripletti di bit poi abbiamo aggiunto gli 0 in modo da arrivare a 8 bit come ci richiedeva il testo abbiamo fatto l'operazione in base 2 e poi siamo tornati in base 8 di nuovo raggruppando i bit i calcoli sulla base 10 non ci sono serviti tenete presente che passare tra le basi binarie quindi base 2 base 8 base 16 è veloce perché basta occupare i bit passare dalla base 2 alla base 10 o dalla 10 alla 2 è più oneroso in termini di calcoli quindi quando si può evitare conviene cercare di evitare di svicolare l'operazione più lenta e più complicata ok questo era il 10 sulla base 8 abbiamo ancora tempo di fare ancora alcuni il 9 dice convertire in binario il seguente numero decimale convertire poi il risultato in base 8 ottale e in base 16 esadecimale quindi questo ci dà già direttamente i passi da fare primo passo prendere 177 e convertirlo in binario qui non mi sta dicendo complemento 2 non mi sta dicendo su quanti bit quindi sarà un numero positivo in binario puro sul numero di bit che serve essenzialmente su quanti bit mi servono non è specificato prima non è specificata l'ampiezza la capienza del numero quindi io ho il mio numero che è 177 177 e per convertirlo possiamo fare le divisioni per 2 quindi 177 è sicuramente un numero dispari quindi mi dà resto 1 diviso 2 abbiamo 177 fa 8 e poi abbiamo 17 che fa anche lui 8 giusto? 17 diviso 2 fa 8 con 1 17 diviso 2 non fa sì poi 88 diviso 2 fa 44 con il resto di 0 44 diviso 2 fa 22 con il resto di 0 22 diviso 2 fa 11 con il resto di 0 11 diviso 2 fa 5 con il resto di 1 aspetta che ho disallineato le cose 22 0 11 diviso 2 fa 5 con il resto di 1 5 diviso 2 fa 2 con il resto di 1 2 diviso 2 fa 1 con il resto di 0 1 diviso 2 fa 0 con il resto di 1 quindi il valore decimale di questo numero letto sempre dal fondo verso l'alto è 1 0 1 1 3 0 1 questo numero probabilmente ha 8 bit ok in binario puro abbiamo convertito a 177 poi il testo mi dice scriviamelo anche in base 16 e in base 8 allora in base 16 è facile io prendo il bit a 4 a 4 quindi 1 0 1 1 sono 8 più 3 11 quindi B 0 0 0 0 1 è 1 in base 16 in base 8 stessa cosa ma prendo i numeri i gruppi a 3 a 3 attenzione parto sempre da destra devo sempre partire dall'unità quindi 0 0 1 mi fa un 1 questo 1 rappresenta 0 0 1 poi avrò se vado prendo i 3 bit successivi che sono 1 1 0 1 1 0 vale 6 e poi i 3 bit successivi sarebbero 0 1 0 0 1 0 sono 2 quindi questo è in base 16 e questo è in base 8 e quest'altro ovviamente era in base 2 binario puro ok ok allora se non ci sono domande su questo proviamo a passare all'8 che mi dice dati questi due numeri in base 10 24 47 convertirli in binario e sommarli sapendo che il risultato deve essere presentato su 6 bit per indicare se l'operazione genera overflow e motivare la risposta ok allora cominciamo prima a fare l'operazione e poi ragioniamo sull'overflow su 6 bit allora noi abbiamo due numeri che sono 24 e 47 24 e 47 allora in binario cosa fanno e ragioniamo poi dopo vi dice che sono 6 bit ma per ora cominciamo a convertirli in binario allora 24 sono 16 più 8 quindi possiamo scrivere il numero 16 più 8 fa 24 quindi vado avanti sulla potenza di 2 1 2 4 non ci sono 8 c'è e 16 c'è questa è la presentazione del 24 47 come lo posso scrivere invece poi volendo si può fare le divisioni successive no ma con numeri piccoli così di nuovo potrebbe non valere la pena 47 è più grande di 32 e più piccolo di 64 quindi ci sta dentro il 32 e il 47 scriviamocelo a parte vale 32 più 15 giusto? allora 15 è 8 più 4 più 2 più 1 1 1 1 1 quindi abbiamo un 32 non abbiamo il 16 e abbiamo 8 4 2 1 potete fare il calcolo in tanti modi e questi sono i due numeri ok? rappresentati in binario puro sui bit che hanno richiesto sommarli vabbè li sommo così come sono senza avere un numero fisso di bit ancora perché mi dici di considerarlo dopo il numero fisso di bit allora se sommo qui fa 1 1 1 qui 1 più 1 fa 0 qui 1 più 1 fa 0 e qui ho un 1 che si somma 0 e fa ancora un 1 qua davanti io qui non avevo un numero fisso di bit e quindi nella operazione di somma ho avuto un riporto per fare 1 più 1 0 con il riporto di 1 e questo riporto di 1 l'ho scritto l'ho aggiunto qui giustamente avevo un numero che avevo espresso su 5 bit un altro numero che avevo espresso su 6 bit e il risultato è saltato fuori su 7 bit va bene se sono in binario puro se non mi danno la dimensione fissa del numero di bit a disposizione uso i bit che mi servono tanti bit quanti mi ne servono e quindi questa è la prima parte della domanda la seconda parte della domanda è sapendo che il risultato dovessi essere presentato su 6 bit indicare se l'operazione genera offload e motivare la risposta allora questa operazione su 6 bit e andiamo a vedere dov'è il 6 bit i 6 bit sono qua 1,2,3,4,5,6 sono qui quindi se io dovessi fare questa operazione su 6 bit che cosa succede? e succede che già questo operando non è rappresentabile su 6 bit non è rappresentabile perché come vediamo questo numero qua se io lo leggo in complemento 2 su 6 bit ah no no qui mi dice non parla di complemento 2 in binario ok no allora niente questo è rappresentabile pensavo al complemento 2 ma poi leggendo il testo bene non ne parla quindi questo è un numero che su 6 bit è rappresentabile l'altro numero ha 5 bit quindi basta aggiungere uno 0 e lo rappresento su 6 bit quindi ho due numeri che sono rappresentabili su 5 bit ma il risultato io qua vedo uno qua che non è rappresentabile su 6 bit quindi questa operazione su 6 bit mi causa overflow e il risultato non si può calcolare nonostante i due operandi siano rappresentabili perché ci stanno su 6 bit il risultato non ci sta su 6 bit e quindi creerebbe facendo l'operazione sul numero di bit fisso vedete che questo bit alla sinistra della sbarra rossa non esiste non esiste più fisicamente e quindi il risultato mi sarebbe saltato fuori un numero errato in questo caso se i numeri fossero stati in complemento 2 allora mi fermerei addirittura prima perché come dicevo il secondo operando non si può rappresentare perché sarebbe fuori su 6 bit verrebbe fuori un numero negativo e non il più 47 che volevamo rappresentare quindi come vedete molti esercizi sono delle variazioni nel tipo prendi dei numeri convertili tra il decimale binario complemento 2 eccetera fai molta attenzione al numero di bit che hai a disposizione fai qualche operazione insomma sotto azione e ragiona sull'overflow ecco l'overflow ricordatevi sempre di indicare se c'è o se non c'è perché un'operazione dare un risultato senza dire che c'è stato overflow o non c'è stato overflow quel risultato lì non vale nulla è come dire ok il risultato è 7 ma potrebbe essere giusto o potrebbe essere sbagliato no devi dirmi se è giusto o sbagliato perché altrimenti il risultato non te ne fai nulla ok direi che abbiamo non abbiamo ma non era l'obiettivo quello di risolvere tutti gli esercizi ne rimangono 7 ma come vedete sono tutti diciamo così dello stesso tipo quindi ve li lascio per il divertimento personale perché abbiamo finito diciamo così il tempo a disposizione e noi per chi c'è per chi ci vuole diciamo così giocare con un altro po' di diretti di teoria ci vediamo domani per le altre due lezioni sulle altre due parti di teoria grazie di tutto e buona serata a domani grazie a tutti